Bella a tutti ragazzi Adesso vi farò vedere un nuovissimo gioco Chiamato Truthmasters E' composto da volante E pedali Come nelle sale giochi Qui però non devi andare lì E spendere 5 euro Quindi spendi 200 euro una volta sola Vi consiglio di prendervelo a Natale Adesso vi farò una piccola dimostrazione Su un gioco chiamato Project Cars Anche questo è bello Se vi comprate il pacchetto di queste due cose Farete un bellissimo affare Perché questo gioco è una cosa esagerata Adesso non ho tempo di cambiare macchina Vi faccio subito vedere una bella dimostrazione Comunque qui ci sono tanti pulsanti C'è il cambio C'è il clacson Ci sono anche i pulsanti come nella Play E come non vi ho ancora detto Questo qui serve per la Play 3 E per la Play 4 Però c'è un pulsantino che è già settato sulla Play 4 Perché la Play 4 è nuova Ovvio Adesso sta iniziando la simulazione Come vedete Questo gioco lo puoi comandare te col volante Questo gioco è una vera figata Allora Qui c'è qualche problema Se comprate però il gioco Il problema è che La sensibilità del volante È pochissima Devi girarlo al massimo Però Il volante è morbido Quindi Non c'è nessun pericolo Adesso Questo video È il mio primo video Mettete un bel pollicione in su E ci vediamo alla prossima puntata Ciao Ciao